Grazie a Palazzo Ducale per ospitare questo nuovo ciclo di filosofia, grazie al Presidente, grazie a tutti quelli che hanno lavorato dietro le quinte a questo ciclo. Il ciclo di quest'anno è Filosofia della Moda, sarà un ciclo in quattro incontri, cominciamo oggi con Tommaso Ariemma che tra poco vi presenterò, ma prima alcune parole sul tema scelto di quest'anno, perché potrebbe apparire insolito. Insolito da un lato perché distante da temi degli anni precedenti, ma soprattutto insolito per il binomio filosofia-moda. Filosofia come pensiero delle cose alte, delle cose profonde, delle cose importanti. Moda come spazio delle superfici, dell'apparenza, della futilità, cioè qualche cosa che sembra totalmente in antitesi rispetto alla filosofia. Questo è un pregiudizio che pesa sulla moda. Nel 2011, quando ormai da vent'anni antropologia, sociologia, scienze sociali scrivevano di moda, esce in Italia il libro di Tim Edwards, la moda, per Reinaudi, e l'autore si sente in obbligo di ricordare. Spesso la moda viene ridicolizzata e considerata una sciocchezza dai cosiddetti intellettuali. È considerata oltre che una sciocchezza anche qualcosa di poco serio da coloro che sono politically correct. La moda è moralmente discutibile o addirittura narcisistica, secondo i conservatori e secondo gli uomini di religione, perversa e anormale da metà della popolazione, soprattutto maschile. Non sorprenderà dunque che uno degli obiettivi principali di questo libro sia prendere sul serio la moda e dimostrarne l'importanza. L'obiettivo di questo ciclo è proprio prendere sul serio la moda, non farne una critica. Prenderla sul serio, mostrarne l'importanza, mostrare il pensiero che si incorpora all'interno della moda, mostrarne la centralità nello spazio politico, sociale e nello spazio esistenziale delle nostre vite. Il fatto che lo faccia la filosofia non dipende dal fatto che oggi la filosofia arriva a occuparsi di temi che fino a pochi anni fa non sembravano poter avere cittadinanza nello spazio filosofico, ma lo si fa perché in realtà c'è una storia di rapporto tra la filosofia e la moda. È qualcosa che si evoca raramente e tuttavia i primi testi dedicati alla moda sono stati scritti da filosofi. Uno dei primi, diciamo tranquillamente il primo, è un testo dell'Ottocento, è stato scritto da Thomas Carlyle, da cui poi, a proposito di moda, uno degli hotel più alla moda di New York prenderà il nome. Carlyle era un filosofo scozzese e in questo testo straordinario che si chiama Sartor Resartus, che vuol dire il sarto rattoppato, scrive a proposito di moda. Lui lo scrive nel 1831, poi viene pubblicato negli Stati Uniti grazie a un grande filosofo come Emerson, che lo apprezza nel 36. E questo sarà un testo di riferimento non solo in ambito filosofico, ma un testo molto importante anche in ambito letterario. Joyce, ad esempio, amerà moltissimo questo testo. Ebbene, a un certo punto Thomas Carlyle scrive, tutto ciò che esiste nel dominio del sensibile, tutto ciò che rappresenta lo spirito allo spirito, è propriamente un abito, un vestito completo, indossato per un certo tempo, per essere subito smesso. Sicché questo grave e vasto soggetto sugli abiti, se ben compreso, contiene in sé tutto ciò che gli uomini hanno pensato, sognato, fatto, ciò che sono stati. Tutto l'universo esteriore, anzi tutto ciò che nell'universo è contenuto non è che veste. La essenza di ogni scienza si trova nella filosofia degli abiti. È una sorta di iperbole, ma in realtà se ci pensiamo non è nemmeno così eccessiva come iperbole. È evidente che ci sono cose che possiamo considerare più profonde, tematiche più profonde rispetto alla moda. E tuttavia nulla è centrale nella nostra esistenza come la moda, nel senso non di haute couture, ma di arte del vestire. Voi potete anche uscire di casa senza fare riflessioni profonde, filosofiche, senza fare un minuto di meditazione, ma voi non entrate nello spazio sociale senza esservi esercitati nell'arte del vestire. Non c'è contesto in cui noi non scegliamo cosa indossare e come indossarlo. Non c'è momento della nostra esistenza che non richieda un abitus. Ci sono dei margini in cui noi andiamo a toccare la nostra nudità, ma sono davvero margini esistenziali e riguardano spazi di intimità. Nello spazio pubblico noi possiamo non parlare, possiamo non fare tante cose, ma dobbiamo essere vestiti. Di più, la nostra stessa costituzione di soggettività come soggetti razionali è legata al fatto di essere vestiti. Vi faccio un esempio. Se entrasse in questo momento una persona qui in mutande, la vostra reazione sarebbe è un pazzo. Gli avreste sottratto con i vestiti la razionalità. Il fatto di vestirsi non è semplicemente un accidente che può avvenire o no per i viventi umani. È un fatto essenziale costitutivo della loro soggettività, addirittura se volete della loro dignità. Denudare qualcuno è una forma di violenza psicologica, è un modo per eliminarne il potere, per assoggettarlo. Il vestito è un modo di esercitare il potere a seconda di come ci si veste. Il vestito può anche indicare in molti spazi l'amico, il nemico, la classe sociale, un desiderio di libertà, un atto di obbedienza. I vestiti parlano, parlano moltissimo, parlano più delle nostre parole. Qualcuno può fare un discorso sublime, ma se è vestito in modo strano o male, voi continuerete a guardare quel vestito e interrogarvi sul perché. Noi oggi siamo vestiti come ci si aspetta che ci si vesta, più o meno, nell'ambito di una conferenza. Abbiamo una giacca. Se fossimo venuti in cannottiera, pur con tutte le giustificazioni teoretiche che avremmo potuto adottare, sarebbe risultato strano fuori luogo. Ci siamo concessi solo un paio di scarpe, ma non le vede nessuno. L'abbiamo scelto in tema. Abbiamo io le Jordan, lui un altro paio di Nike. Tutto questo per dirvi che la moda va a definire il vivente umano. Nel corso della storia della filosofia si è definito il vivente umano come zon, logon ekon, il soggetto che possiede la razionalità linguaggio. Oggi questa definizione è in crisi perché sappiamo che altri viventi, tutti gli altri viventi, anche non umani, hanno una forma di razionalità, hanno una forma di linguaggio. Si sono scelte altre formule. Il vivente umano è l'unico vivente che ride, ma poi anche quello non è vero. Ne abbiamo sicuramente una. Il vivente umano è l'unico vivente che si veste. È evidente che possiamo vestire anche il nostro cagnolino, ma non lo stiamo proteggendo dal freddo, lo stiamo antropomorfizzando. È costitutivo della soggettività dei viventi umani il fatto di vestirsi. Capite bene che quindi un fenomeno di questo tipo, che ha una diffusione sociale totale, che parla linguaggi complessi, è un fenomeno che è degno di interrogazione. Ma c'è un secondo aspetto, che oggi poi Tommaso Ariemma esemplificherà parlando di Nike, che possiamo tirare in causa parlando del rapporto filosofia moda. Moda non è solo un oggetto degno di interrogazione filosofica perché ha un ruolo sociale, politico, esistenziale centrale nelle nostre vite, ma perché è in sé stesso anche, e questo suona un po' più strano, un atto che ha a che fare con la filosofia. Vedremo oggi come le Nike, da un certo momento in poi, incorporano per la prima volta una vera e propria filosofia, ma più in generale se pensiamo, come accade a partire da un certo momento del Novecento recuperando un'idea di filosofia antica, che la filosofia è una forma di cura di sé, di arte della vita e di costituzione della nostra soggettività, ebbene vestirsi è un atto che ha a che fare con la costituzione di sé. Quindi ha un valore filosofico, potremmo dire. Non sarebbe un iperbole, sarebbe un modo per vedere come l'arte della vita ha anche a che fare con la selezione, il montaggio degli abiti, il modo in cui ci esponiamo, il modo in cui noi appariamo agli altri. Per introdurci in questo mondo partiremo dalle scarpe, che è un aspetto essenziale della moda. Qualcuno potrebbe pensare soprattutto femminile. È vero che la produzione delle scarpe di moda ha avuto un momento che è soprattutto femminile, ma se non pensiamo alla moda solo nel senso di haute couture, ma di arte del vestirsi in generale, ebbene le scarpe sono un aspetto centrale nella moda a 360 gradi. Vi dicevo che intesa come arte della vita, quindi indossare un paio di scarpe, scegliere un paio di scarpe, è un atto filosofico. Qualcuno potrebbe sorridere, ma vi ricordo l'incipit del simposio di Platone. Quando Socrate si reca a casa di Apollo d'oro per passare la serata a parlare di Eros, Platone non ci dice Socrate andò con in mente pensieri profondissimi sul daimon Eros, eccetera. Ci dice Socrate andò indossando un paio di sandaletti nuovi perché voleva andare bello da un bello. E in realtà voi trovate in molte pagine di Platone tutta una serie di discussione sulle scarpe, sui sandali, sul modo di indossarle. Quindi noi abbiamo dei pregiudizi che gli antichi non avevano, non solo che non c'è oggetto indegno di interrogazione filosofica, ma che ci sono oggetti che a noi sembrano da poco e che in realtà sono costitutivi e hanno un loro pensiero. Oggi interrogheremo un pensiero incorporato in una scarpa che voi trovate ovunque, diffusissima, anche qui in prima fila c'è una persona con le Air Jordan, sono le Nike. Ma non a caso partiamo dalle Nike, perché fin dal nome evocano l'universo greco, l'universo del mito. Nike è una parola greca, ce lo racconterà Tommaso, il simbolo delle Nike è preso dalla mitologia greca. Le Air Jordan sembrano la scarpa per eccellenza del filosofo platonico che vuole elevarsi e saltare più in alto degli altri. Platone nelle leggi ricorda ci dimentichiamo troppo spesso di saltare, dobbiamo ricordarci di saltare e non lasciare troppi piedi per terra. Ebbene, oggi questo lo farà una persona che per me è, oltre a essere uno dei filosofi più importanti che si occupano di cultura di massa in Italia, è un carissimo amico, molti anni fa ormai, ahimè, portammo in Italia la pop filosofia, cioè una filosofia che si è aperta alla cultura di massa, abbiamo generato una piccola moda, diciamo così. Ebbene, quindi grazie a professore Ariemma che è qui. Tommaso Ariemma insegna estetica e sociologia dell'arte presso l'Accademia delle Belle Arti di Lecce, si occupa di teoria dei media, si occupa di estetica, si occupa di cultura pop, si occupa di arte, naturalmente. Ha scritto più di una ventina di libri, ricordo solo, diciamo, gli ultimi tre. Uno che ha avuto un enorme successo per Mondadori, la filosofia spiegata con le serie tv. L'altro pubblicato da Dino Audino, Platone Showrunner, e da ultimo, filosofia del gaming, da Talete alla Playstation, edito da Tlon. E sta preparando un libro che uscirà proprio in autunno, dedicato alla Nike. Non rubo altro tempo e lascio la parola a Tommaso. Grazie. Grazie. Grazie Simone, grazie davvero per questa bellissima occasione, in una sala splendida, in un palazzo magnifico. Per me è la prima volta a Genova e sono estasiato. Venendo dalla stazione fino all'hotel, ho ammirato per la prima volta una città che mi ha ricordato, non poco, anche Napoli. Quindi mi trovo quasi a casa per questo motivo, ma anche l'anticipato Simone, perché sono con chi ha portato la pop filosofia in Italia e oggi noi pratichiamo questo genere di filosofia in un modo molto diverso da quello che fu sponsorizzato soprattutto a livello statunitense, che sembrava una vacanza intelligente per i filosofi, per i professori di filosofia. Ecco, noi ci siamo occupati di queste cose, però facendo quello che non si doveva fare, cioè prenderle sul serio. Si doveva scherzare con la cultura pop, si doveva alleggerire il discorso. Ecco, da bravi filosofi, noi anche quando pensiamo alla leggerezza tendiamo a darle un peso, pensare e pesare. Quindi da questo punto di vista noi ci siamo occupati della cultura pop in un modo decisamente significativo per noi e per la filosofia. Io da anni mi batto proprio per marcare una differenza tra la pop filosofia italiana, che proprio grazie a Simone abbiamo introdotto in Italia, è diventata una moda anche, diciamo, con esiti imprevedibili per noi stessi, ma per noi resta una direzione importantissima di ricerca, proprio perché permette innanzitutto di dare alla filosofia un futuro. L'espressione pop filosofia sposta la filosofia dopo il fenomeno della cultura di massa, è il fenomeno pop e questo significa che la filosofia eghelianamente viene dopo, ma in un senso molto più forte e molto più propositivo. La filosofia ha un futuro. Ecco, io vi parlerò di un oggetto che ha avuto successo proprio in un periodo in cui la filosofia ha smesso di parlare in un certo modo, si è ritirata in se stessa, ha parlato di sé, ha esibito anche un certo cinismo, ancora oggi lo esibisce, e invece oggetti come delle scarpe nai che incorporavano delle massime filosofiche, una vera e propria filosofia, facevano filosofia al posto della filosofia. Ecco, una filosofia attenta a questi fenomeni interessantissimi che provocano, sono delle vere e proprie provocazioni per la filosofia. Ecco, non potevamo lasciarci sfuggire tali fenomeni e io soprattutto non potevo lasciarmi sfuggire un fenomeno come quello delle Nike. Dico io soprattutto perché, oltre a sottolineare l'importanza e la serietà della filosofia italiana, mi occupo ormai già da diversi anni, e anche stavolta grazie a Simone, degli anni Ottanta, di quelli che sono per molti anni di non pensiero, anni di edonismo cosiddetto reganiano, poi questa è stata una formula molto efficace che però ci ha negato completamente il pensiero verso una delle decade più interessanti e sicuramente innovative da tutti i punti di vista. Io mi occupo, dicevo grazie a Simone, perché proprio con il Melangolo abbiamo pubblicato Filosofia degli anni Ottanta nel 2019 e da allora io mi sono imposto di attraversare gli anni Ottanta da tutti i punti di vista. L'ultimo libro che è stato pubblicato è dedicato ai videogiochi anche per questo motivo. I videogiochi hanno il loro picco di successo, soprattutto negli anni Ottanta, e oggi sono diventate una potenza narrativa, una potenza filosofica ovviamente, imprescindibile, però tutto comincia dagli anni Ottanta o negli anni Ottanta. Le Nike ovviamente non sono state prodotte negli anni Ottanta, ma negli anni Ottanta sono diventate le Nike o le Nike, come dicono in America. Si è capito perché in Italia noi le pronunciamo Nike, cercando di essere così, di fare una pronuncia americana, però gli americani continuano a dire Nike e noi italiani continuiamo a dire Nike, quindi userò l'espressione italiana delle Nike che ci piace tanto e che noi siamo abituati ad ascoltare. Quindi filosofia degli anni Ottanta, pop filosofia, attenzione verso oggetti in apparenza infimi. Dico in apparenza infimi perché appunto quando pensiamo alle scarpe noi pensiamo anche nell'ambito della moda a qualcosa di inferiore rispetto al vestito. lo si vede anche, non lo so, per chi sta preparando un matrimonio, sicuramente la sposa o lo sposo ha le scarpe, al di là magari di qualche particolare interesse, ma penseranno alle scarpe in un secondo momento. Ecco, invece le scarpe sono un oggetto da pensare, come diceva prima Simone a proposito del simposio, è interessantissimo e hanno una storia lunghissima, davvero antica, lo vedremo. Ma soprattutto, se proprio vogliamo indagare il fenomeno della moda, ecco, partiamo da questa immagine e l'immagine che vedete non è nient'altro che una pagina di un giornale, Repubblica, dei qualche mese fa, quindi abbastanza recente, che dice che nell'ambito della moda, della moda, il marchio più importante, superiore addirittura a Louis Vuitton, è Nike. Dico della moda, tra virgolette, perché anche l'inclusione della scarpa Nike all'interno della moda è problematica. Quando pensiamo alla moda, noi pensiamo all'alta moda, ma in realtà, come diceva ancora Simone, noi dobbiamo pensare alla moda come un'arte del vestire, un'arte del vivere. E sicuramente, da questo punto di vista, le Nike sono un riferimento fondamentale. Finora, i filosofi si sono, sì, occupati della moda, e non pochi, perché se andiamo a vedere anche le pagine dei grandi, dell'epoca d'oro, dell'estetica, di Kant e di Hegel, noi troviamo sicuramente un riferimento alla moda. Kant, nell'antropologia pragmatica, la definisce la regina delle novità. E non mancano anche delle righe che, ecco, Hegel e altri grandi filosofi hanno dedicato al fenomeno della moda. Ma, ecco, i filosofi hanno pensato l'abito, hanno pensato la veste, hanno pensato ai gioielli, però non abbiamo riflessioni filosofiche sulle scarpe, con un'unica eccezione. E, infatti, quella che vedete alle mie spalle è un'immagine famosissima, soprattutto per chi si occupa di estetica, di scarpe di Van Gogh. Dico famosissima perché un'analisi celebre di un grandissimo filosofo, Martin Heidegger, nel 36, nel saggio L'origine dell'opera d'arte, dedica una grandissima attenzione a questo dipinto di Van Gogh, alle scarpe di Van Gogh. C'è stato un ampio dibattito, poi, su questa lettura. Storici dell'arte hanno fatto notare Heidegger che, no, quelle non sono, come pensava Heidegger, scarpe da contadino, ma sono proprio le scarpe di Van Gogh. C'è stato un grande filosofo che è stato importantissimo per Simone, ma anche per me, Jacques Derrida, che invece ha scritto un saggio di grande lucidità e intelligenza proprio sulla questione dell'appartenere di queste scarpe, sia al contadino, sia a Van Gogh, sia a Heidegger stesso. Insomma, intorno a queste scarpe, attenzione, solo a queste scarpe, noi abbiamo una discussione di livello elevatissimo in ambito filosofico. Tanto è vero che adesso c'è addirittura una raccolta di testi che si chiama Le scarpe di Van Gogh, che raccoglie tutto il dibattito intorno a questo dipinto, a quest'opera. Quindi i filosofi si sono occupati di moda, pochissimo di scarpe, quelli che si sono occupati di scarpe si sono occupati di queste scarpe. Basta. Non avete riflessioni filosofiche sulle scarpe da parte dei filosofi se non su questo dipinto qua. E l'analisi che fa Heidegger è davvero suggestiva, è ancora oggi a leggerla davvero scritta in un modo impareggiabile. Heidegger ha uno stile, possiamo pensare, ovviamente, quello che vogliamo su un grande filosofo come Heidegger, ma è innegabile il suo stile davvero suggestivo per quanto riguarda il potere evocativo che, secondo Heidegger, hanno queste scarpe. Addirittura in queste scarpe si può vedere il mondo contadino, secondo Heidegger, e quindi tutta la terra che viene certamente calpestata, ma anche quella che si ritira, che non si dà a vedere. Il conflitto, dice il grande filosofo, tra mondo e terra, addirittura, in queste scarpe. Ma in tutte le scarpe, quindi, è no. Perché, attenzione, io sono stato impreciso. La riflessione di questi filosofi non riguarda le scarpe. Noi pensavamo che stessero parlando di scarpe. No, no, ve l'ho detto, stavano parlando del dipinto di Van Gogh. Quindi, ancora una volta, non si sono occupate di vere e proprie scarpe. Perché le scarpe sono nient'altro che un oggetto infimo, non degno di considerazione, nemmeno nell'ambito della moda. Pensate che l'unico cambiamento nel mondo della moda, per quanto riguarda le scarpe, è stata la differenziazione dalla scarpa testa e la scarpa sinistra. O scarpe maschili, scarpe femminili. Poi, c'è stata un'esplosione, una differenziazione, eccetera, ma per tantissimi secoli, addirittura, le scarpe erano le scarpe. I sandali erano i sandali. C'era un minimo di differenziazione di genere, ma da lì non ne uscivamo. Questo che cosa significa? Significa che, ecco, non abbiamo mai pensato le scarpe perché le scarpe, anche colpa loro purtroppo, non avevano incorporato qualcosa degno di attenzione. Ecco, sicuramente la riflessione che fa Heidegger a proposito di queste scarpe riguarda l'essere trasposte in immagine. Heidegger dice noi possiamo pensare le scarpe di Van Gogh, questo dipinto, perché è un'immagine, perché è una messa in opera della verità, perché così noi vediamo la verità, lui dice, del mezzo. Non possiamo usare le scarpe, non possiamo utilizzare queste scarpe, e quindi per la prima volta noi vediamo queste scarpe sospese, vediamo la verità del loro uso, l'utensilità in generale. Ecco, questo ci permette di pensare che cos'è un mezzo per Heidegger. Di lì poi una riflessione molto densa su tutto quello che è il destino dell'Occidente, a partire però, attenzione, da un'opera d'arte, non dalle scarpe. Heidegger non si sofferma tanto su delle scarpe, si sofferma anche su dei semplici oggetti, per esempio si sofferma su una brocca, questo sì, o un bicchiere, l'analisi famosa di Heidegger è sulla brocca, però sulle scarpe no. Ecco, possiamo invece rivolgere la nostra attenzione a delle scarpe in particolare, a delle scarpe che tra l'altro ci aiutano in questo, nel senso di essere più appetibili per i filosofi, perché in realtà queste scarpe sono anche la loro immagine. La caratteristica degli oggetti pop è che è difficile separarli dalla loro immagine, anzi, a volte dobbiamo fare uno sforzo incredibile per non perdere il senso della realtà nel differenziare la cosa, tra virgolette, reale dalla sua immagine. Il caso degli hamburger dei McDonald's penso sia noto a tutti, però la caratteristica degli oggetti pop è proprio questa, quella di essere quasi inseparabile dalla propria immagine. Ecco, andiamo dunque al nostro oggetto per eccellenza, vedremo, non è un semplice oggetto, quello che vedete nell'immagine, quindi, ecco, gli oggetti pop e le Nike in particolare, che hanno un archivio di immagini enorme, ecco, gli oggetti pop come quelle delle Nike ci permettono di fare una riflessione filosofica di livello, spero di mostrarlo, altissimo, perché innanzitutto quella che vedete non è uno dei modelli più famosi delle scarpe Nike, l'Air Jordan, lo è, ma anche no. Questa è una scarpa abbastanza recente, se consideriamo la sua produzione, il suo costo è elevatissimo, costa 800 dollari, già ci fa strano pensare a una scarpa come quelle del Nike che hanno un prezzo di solito medio-alto, ma sicuramente non arrivano a 800 dollari, 800 euro, comunque una cifra enorme, questo è un pezzo da collezione, perché? Perché è fatto con materiali particolari, speciali, anche un colore che differenzia queste scarpe, queste Air Jordan, questo è il loro modello, da quello originale. Oggi c'è una vera e propria cultura delle sneaker, addirittura ci sono delle persone ossessionate dal loro acquisto, dall'acquisto anche legato a un certo tipo di collezionismo, i cosiddetti sneakerhead, addirittura c'è una serie televisiva su Netflix comica, ovviamente, perché possiamo pensare anche a una compulsione dietro questo tipo di acquisto, ma è una forma di collezionismo molto interessante che riguarda le sneaker e il loro più o meno valore a seconda dell'anno di produzione, del modello, della differenziazione, poi lo vedremo anche della dell'aggiunta di un grande stilista del momento. Ecco, queste hanno un valore sicuramente decisamente alto rispetto alla media e ricordano il modello è lo stesso, ma lo ricordano a malapena perché appunto il colore è completamente diverso e infatti hanno un nome che ha a che fare col dark delle Air Jordan. Io ho scelto queste immagini innanzitutto per farvi vedere una cosa. Avete il simbolo famosissimo lo swoosh della scarpa Jordan, della Nike, però avete lì in alto quello che poi diventerà il sottomarchio delle scarpe Nike, un sottomarchio per la prima volta dedicato a una sola persona, a un singolo uomo, il più grande cestista di tutti i tempi, Michael Jordan. La cosa è interessantissima perché come vedete c'è qualcosa che lega i due simboli. Da un lato c'è lo swoosh, il sibilo dell'aria, c'è chi ha visto in questo swoosh delle ali, comunque l'origine, la storica è semplicemente il fondatore della Nike, Phil Knight, un ex podista, vedeva in questo swoosh un corridore che sorpassava l'altro correndo, quindi era il simbolo della vittoria, della vittoria sulla corsa, sul campo della corsa, ed era il sibilo dell'aria. Addirittura noi abbiamo a che fare con una condensazione di un gesto. per la prima volta delle scarpe hanno, direbbe il grande Abbe Barburg, una pathos formel, una formula di pathos, un gesto corporeo. È una cosa importantissima perché fino a quel momento solo le opere d'arte avevano utilizzato lo schema corporeo, schema è una parola che appunto ha a che fare con il gesto corporeo, schematà in greco sono i gesti del corpo, il danzatore utilizza schematà, lo schema corporeo spesso è stato utilizzato nelle grandi opere d'arte e c'è chi come storico dell'arte Ost Bredekamp ha parlato proprio di una forza vitale dell'immagine nel momento in cui l'artista riproduce in immagine il gesto corporeo, il gesto del corpo. Volete dare vita a un'immagine, a un'opera d'arte? Benissimo, allora la vostra opera deve avere a che fare col gesto del corpo, questo dà vita all'immagine e dà vita a una scarpa. Quindi, prima incorporazione, una scarpa comincia a utilizzare una strategia iconica, tipica delle opere d'arte, ma lo vedete ancora di più nel sottomarchio di Jordan. Prima si parlava dell'elevazione, ma qui avete proprio il gesto famosissimo con le gambe divaricate di Jordan che sembrava volare, l'uomo lontano dalla forza di gravità, l'unico uomo che non saltava ma volava, Air Jordan, veniva chiamato Air, proprio a simboleggiare, a sottolineare la sua avvicinanza all'aria. Eccolo qui, il nostro Michael Jordan, giovanissimo, quando nel 1985 viene, anche in modo rocambolesco, e potete riprendere questa avventura della Nike semplicemente guardando il bellissimo film dell'anno scorso, Air, diretto da Ben Affleck, un film che fa vedere molto bene come la Nike riesce a catturare letteralmente Michael Jordan e a vincere da questo punto di vista su tutti gli altri competitors. Però, tuttavia, ecco, nel mio intervento vorrei sottolineare anche il lato di mito di questa strategia, perché poi, i numeri alla mano, le cose non vanno come sperava il fondatore Phil Knight. La Nike investe tantissimo su Jordan, questo è vero, riesce a strappare l'artista, è l'artista per noi, ma sicuramente l'atleta migliore di tutti i tempi. Tuttavia, questo poi non è il solo fattore a determinare il successo della Nike, lo vedremo, ci sarà un altro fattore ancora più importante dello stesso Jordan. Tutto il mito che oggi ancora circola intorno a Jordan è funzionale, questo va detto, al suo sottomarchio, che ha creato, come appunto dicevo, un vero e proprio marchio parallelo alla Nike, quindi l'aura, la leggenda intorno a Jordan è sicuramente marketing del suo sottomarchio. Però, in questa fase, come vedete, non c'è ancora il suo marchio, chi ha acquistato le successive Air Jordan non troverà più lo swoosh della Nike se non con un loghetto sono in alcuni modelli dietro nel tacco eccetera, ma troverà solo o il numero 23 che è il numero della maglia di Jordan o semplicemente la figura stilizzata di Jordan che salta. Un vero e proprio sottomarchio. Ma in questa fase, cioè all'inizio nel 1985 Jordan viene assoldato dalla Nike e diventa una specie di spartiacque. Spartiacque per molti che hanno analizzato il fenomeno Nike addirittura c'è chi sociologicamente ha visto una sorta di pre-Jordan e di post-Jordan una specie di Cristo delle sneakers ed è sicuramente vero per quanto riguarda l'immaginario non è attettanto vero per quanto riguarda poi il successo economico e quindi la potenza nei termini dell'effetto moda di Michael Jordan. Michael Jordan ha innanzitutto goduto di un successo inatteso anche perché al di là della sua bravura come cestista ma nell'ambito del marketing innanzitutto per delle sue qualità estetiche innegabili ma anche perché la Nike fa un errore fa un errore all'inizio strano ma che si rivela poi strategico le scarpe quelle che vedete non sono proprio le primissime Nike Jordan le primissime Nike sono quasi tutte nere e il regolamento dell'NBA non permetteva ai giocatori di utilizzare le scarpe con tanto nero quindi ogni volta che Michael Jordan entrava in campo doveva essere multato è una follia sicuramente sostenere una cosa del genere ma la Nike vuole sostenere questa multa vuole pagare ogni volta questa multa perché pensa poi di rivendere questa multa questa questa infrazione come una caratteristica delle scarpe comincia a far veicolare a far girare il mito della potenza delle scarpe in realtà non vogliono far usare le scarpe a Jordan perché gli darebbero un vantaggio e lo vedete proprio nel video che vi faccio vedere adesso uno dei primi commercial dell'Air Jordan dove si sottolinea proprio questo notate per chi è appassionato dei video degli anni 80 soprattutto dei video promozionati degli anni 80 come ricordi non poco quello dell'anno precedente del 1984 della Apple la stessa dicitura la stessa impostazione c'è qualcuno che vuole impedirvi di essere libero eccetera eccetera ma in realtà sì questo sarà un limite per Jordan ma non è un limite per voi consumatori che potete acquistare le Nike Air Jordan e nessuno vi può impedire di indossarle di indossi On September 15th, Nike created a revolutionary new basketball shoe. On October 18th, the NBA threw them out of the game. Fortunately, the NBA can't stop you from wearing them. Air Jordans, from Nike. Air Jordans, basketball. Questi sono i primi commercial dell'Air Jordan e avete notato innanzitutto sicuramente il suono a che fare, somiglia molto, è il suono in realtà di un jet, di un aereo. Ora, questo riferimento all'aereo, all'aria, è un riferimento fondamentale per le Nike. Innanzitutto per trasformare le Nike non in semplici scarpe, ma forse riallacciandosi da questo punto di vista con l'antichità, con un oggetto rituale. Le Nike diventano sempre di più un oggetto rituale, non delle semplici scarpe, ma delle scarpe che, se indossate, ti permettono di essere in sintonia con il principio che governa il mondo. Mi può sembrare una cosa stranissima, ma è accaduta già per altri oggetti. Quindi, innanzitutto, qual è il principio che governa il mondo? Oggi, qual è il principio che governa il mondo? Qualcuno potrebbe dire, molto banalmente, è il capitalismo. Ecco, l'analisi delle scarpe Nike ci permette anche di fare un'analisi del capitalismo non banale. Anche perché, come sapete bene, siamo a Genova, nel 2001 l'evento che ha segnato sicuramente e negativamente il forum di Genova ha a che fare anche con una protesta cosiddetta anti-Nike. Naomi Klein, l'autrice del celebre libro Bibbia del movimento no global, no logo, prendeva come tra gli imputati maggiori proprio la Nike. Addirittura, da Seattle in poi, si crea un vero e proprio movimento anti-Nike. Quindi, già il fatto di occuparsi delle Nike significa, ah ma forse darai una chiave marxista a quello che stai dicendo. No, anzi, proprio l'analisi di un oggetto come la scarpa Nike ci permette anche di vedere meglio delle dinamiche che di solito appiattiamo sotto la parola capitalismo. In primo luogo il capitalismo non si muove sotto tutti gli aspetti, sotto tutti i livelli dell'economia. Il capitalismo arriva a un livello molto alto degli scambi economici. Un grande storico, Fernand Brudel, ha distinto, per esempio, dei livelli di economia, possiamo dire, di scambio che in realtà non sono tutti assimilabili al capitalismo. C'è un livello che lo storico definisce di vita materiale, che ha a che fare con ritualità, che ha a che fare con le credenze, ha a che fare con gli immaginari, ha a che fare anche con i desideri singolari, comunitari, eccetera, eccetera. C'è un livello successivo che lui definisce economia di mercato e ha a che fare con gli scambi economici all'interno di una comunità, che però non raggiungono un livello tale da generare, da interessare enormi quantità di denaro. Quando è che degli oggetti, delle attività, cominciano a essere interessanti per investimenti di così ingenti forme di denaro, somme di denaro? C'è una teoria molto interessante di un filosofo russo, però ha scritto soprattutto in lingua tedesca, Boris Groys, che dice che gli oggetti in realtà, gli oggetti contemporanei, sono in un certo senso tutti oggetti di design, soprattutto quelli che cercano una certa produzione e soprattutto quelli che cercano certi investimenti. Lui li chiama spose del capitale, sono delle spose del capitale. Che significa? Secondo il filosofo, gli oggetti cercano di intercettare per la loro produzione grandi investimenti economici. Il problema è, quando arrivano questi investimenti economici? Quando questi oggetti raggiungono quel tipo di sommità? Questo è interessante. Quando diventano tali da, per esempio, intercettare i principi che governano il mondo. E ritorniamo alla questione che vi ponevo poco fa. Qual è il principio che governa il mondo? Molto spesso è un principio materiale. Per esempio, il principio che governava il mondo antico e anche il mondo moderno era la terra o successivamente l'acqua, il mare. Chi controlla la terra controlla tutto. Poi chi controlla il mare controlla tutto. Oggi a che livello siamo arrivati? Oggi chi governa non governa terra e mare. Sono ormai obsoleti. Oggi il dominio è il dominio sull'aria. Da tutti i punti di vista. Non solo aereo nel senso materiale, ma per tutto quello che attraversa il flusso aereo. Quindi informazioni. Quindi tutto quello che avviene attraverso i nostri celebri computer avviene attraverso l'aria. Per mezzo dell'aria. Ora, già dagli anni 30-40, gli oggetti cominciano, quelli che da brave spose del capitale, cominciano ad attirare investimenti quando? Quando cominciano ad assumere forme aerodinamiche. Ci sembra assurdo quello che vedete nella copertina del Time è Raymond Lowy, uno dei più grandi designer americani, l'inventore dell'industrial design, del design industriale. Qui apriremo una finestra molto grande e quindi non l'apro nemmeno. Che cosa crea Raymond Lowy? Crea linee aerodinamiche per tantissimi oggetti. Dalle locomotive, alle automobili, ovviamente. Ovviamente nelle automobili, per quanto riguarda le automobili, noi possiamo pensare, vabbè, giustificato, vogliamo dare una velocità all'automobile, quindi le forme devono essere aerodinamiche. Ma il temperamatite? Che senso ha avere un temperamatite dalle forme aerodinamiche? Ma non solo il temperamatite, il frigorifero, il celebre frigorifero cold spot, con delle forme bombate aerodinamiche. Perché ovviamente gli oggetti diventano quasi dei veri e propri oggetti rituali nel momento in cui incarnano il principio che governa il mondo. Il principio che governa il mondo è l'aria. Tutti gli oggetti cominciano ad avere forme aerodinamiche, forme che si possono prestare dal punto di vista simbolico a sostenere questo principio. Ed è una cosa stranissima, per esempio, che delle scarpe cominciano ad avere nella suola una camera d'aria. È una cosa stranissima, perché qualcuno potrebbe dire, vabbè, ma reggono meglio gli urti, ammortizzano bene. Ma che ci devi fare con le scarpe? E poi, soprattutto, adesso per esempio lo potete vedere, ci sono delle gomme che funzionano anche molto meglio, senza avere all'interno delle camere d'aria. Una camera d'aria molto particolare. Nasce questa idea nel 1977. Frank Rudy, un ingegnere aerospaziale, si presenta dal fondatore della Nike e gli dice ma perché non mettiamo una camera d'aria pressurizzata nella scarpa? E giustamente Phil Knight dice ma perché, a che serve? Com'è che serve? Innanzitutto rende la scarpa più leggera, ma poi attutisce, ammortizza. Questo, ovviamente, per Phil Knight e anche per il suo socio, Bill Bowerman, una sorta di scienziato delle scarpe, che amava spostare l'attenzione sul lato scientifico delle scarpe, ecco, diventa una novità molto interessante, ma soprattutto da un punto di vista simbolico. Le Nike potevano adesso rientrare in quell'universo simbolico che aveva dato tanta fortuna al design americano, al design industriale. potevano adesso corteggiare il capitale, essere spose perfette del capitale. E lo diventano. E lo diventano proprio nel momento in cui riescono a mettere questa parolina accanto a Nike. Nike Air. Le prime scarpe che contenevano l'aria. Già il sibilo aveva a che fare con l'aria. Adesso è come avere un ulteriore rafforzamento. Queste sono delle scarpe con l'aria, che corteggiano l'aria, in linea col principio dell'aria. Un oggetto rituale potentissimo. Indossare queste scarpe significa partecipare, in una certa forma, del principio che governa il mondo. Guardate, questo è il principio che è alla base del cool nella moda. Quando ci chiediamo, ma che cosa significa il termine cool? Esiste una vera e propria termoestetica dei media. Se noi andiamo a vedere, quando utilizziamo espressioni che riguardano la temperatura nei media e negli oggetti, è elevatissima. In questo caso, noi abbiamo una sorta di raffreddamento di qualcosa. La ritualità ha a che fare con questo tipo di raffreddamento. C'è un grande principio che governa il mondo. Mi è estraneo. Io sono messo da parte. Ma con questo oggetto io posso partecipare di questo principio. E quindi, questo potere passa anche un po' attraverso di me. Non mi incude più timore. Io riesco a sopportare un peso del genere, un peso esistenziale, perché sento di prendere parte a questo potere. Pensate a tutti i ragazzini che acquistano scarpe Nike. Lo fanno inconsciamente. Non stanno semplicemente partecipando del grande principio che governa il mondo. Stanno esibendo qualcosa che ha a che fare con una grande riconoscibilità. Pensate a quanti ragazzini negli anni Ottanta hanno acquistato le Nike per essere riconoscibili, per essere identificabili, per avere un po' di quel potere di riconoscimento che attraverso un oggetto rituale come quello delle Nike adesso poteva essere ottenuto. La vicenda che dà il nome alla scarpa Nike è davvero rocambolesca. Il già citato fondatore Phil Knight fa un'operazione davvero singolare e la storia delle Nike ci fa vedere come questo semplice oggetto delle semplici scarpe in realtà è frutto di una serie di passaggi avvincentissimi e che ci permettono di parlare di una vera e propria costruzione impersonale. Vi dicevo, Phil Knight, il fondatore, è un'ex podista ma ha anche una laurea in economia. Vuole diventare come molti americani un imprenditore e allora che fa? Ha un'intuizione geniale. Lui pensa di poter importare in America delle scarpe sportive giapponesi. Sono fatte meglio, sono molto più leggere, ma soprattutto sono molto più economiche. quindi Phil Knight e il suo allenatore Bill Bowerman che diventa poi suo socio fondano non la Nike ma un'altra società la Blue Ribbon Sport simbolo anche lì di una vittoria. Blue Ribbon è la coccarda per il vincitore e diventano quelli che cominciano a importare scarpe giapponesi. La Onizuka Tiger è la casa madre giapponese che vede in questa intuizione del giovane Phil Knight sicuramente qualcosa di produttivo per la casa giapponese. Quindi accetta. Però accetta fino a un certo punto. Dopo un po' i rapporti si logorano e Phil Knight deve fare una scelta. Se abbandonare il mercato delle scarpe è un mettersi in proprio. Ed è qui la cosa interessante. Phil Knight ragazzo davvero ventenne fa un viaggio in tutto il mondo. Comincia a girare il mondo prima di arrivare in Giappone e prima di poi prendere distanze dalla casa produttrice giapponese. In una di queste tappe si ferma ad Atene è il 1962. Una cosa stranissima. Sapete chi c'è ad Atene nel 1962? Heidegger che fa per la sua prima volta il viaggio ad Atene. Non aveva mai visto la Grecia va con alcuni amici con sua moglie va a visitare la Grecia. Non sappiamo se proprio negli stessi giorni nello stesso mese ma sicuramente i due si ritrovano nello stesso anno a fare la stessa riflessione anche questo è interessante. Di solito il filosofo pensa che persone che non hanno studiato filosofia eccetera siano distanti da una certa sensibilità per esempio verso il mondo greco. Heidegger visita il Partenone fa un famosissimo viaggio in Grecia vi suggerisco questo libro bellissimo si chiama Soggiorni viaggio in Grecia e dice che ormai il mondo greco è andato fa parte del passato nonostante abbia generato il nostro presente si è ormai svanito non riusciamo quasi più a pensarlo dice Heidegger si sottrae andare in Grecia è stato un errore addirittura a Rodi in isola bellissima Heidegger non vuole scendere dalla nave io non voglio sapere più niente ormai è tutto stiamo parlando del 1962 è tutto ormai nelle mani del turismo nessuno avverte più lo spirito greco tutto è svanito tanto meglio restare in Germania a casa senza fare il viaggio e pensare attraverso Parmenide Aclido eccetera nello stesso momento c'è un giovanissimo Phil Knight che sta andando a parlare in Giappone per prendere accordi poi successivamente per prendere distanze e nota una cosa si ferma e resta colpito da questo cosa stranissima lui dice noi dobbiamo ai greci tutto noi noi americani noi dobbiamo ai greci tutto i greci sono l'inizio di tutto Phil Knight sarà l'ultimo a fare questo tipo di riflessione l'ultimo richiamo al mondo greco è in una scarpa non ce ne saranno più la filosofia ormai negli anni 80 ha preso ampiamente distanze da questo modo di fare filosofia la condizione postmoderna è anche un modo per prendere distanze da un certo modo di fare filosofia con un certo richiamo all'inizio con un certo richiamo al mondo greco vabbè noi in Italia abbiamo avuto anche Emanuele Severino che fu eccezione però tendenzialmente questo modo di richiamarsi all'inizio non lo troveremo più considerando che poi lo stesso Emanuele Severino queste cose le aveva dette negli anni 50 poi le ha ripetute eternamente però erano state già dette ma negli anni 80 a prendere questo testimone sono delle scarpe e si ferma davanti a questo che ho visto proprio l'anno l'anno scorso ad Atene ci sono andato apposta anche io ho fatto lo stesso tipo di pellegrinaggio ho detto vado a vedere questa questo rilievo di Atena Nike la dea della vittoria che vedete il gesto si slaccia il sandalo Phil Knight resta colpito cioè i greci sono all'inizio però i greci che sono all'inizio che sono all'origine della nostra civiltà hanno dato così tanta importanza a un elemento rituale il togliersi i sandali prima di entrare in un luogo sacro persino una divinità deve cedere a questo e tutta l'opera di Phil Knight sarà orientata a questa strategia rendere le scarpe non un semplice indumento ma qualcosa tale da metterci in collegamento con i principi del mondo la prima strategia l'avete vista è quella di essere una sposa dell'aria una sposa del capitale la seconda strategia molto più sottile e che invece avrà enormi conseguenze dopo quello di utilizzare un nome per la nuova società stranissimo i nomi delle case di moda sono tutti nomi possiamo dire un po' puerili a volte messi a casaccio a volte sono delle combinazioni dei nomi dei cognomi a volte sono semplicemente dei cognomi Gianni Versace all'inizio comincia col suo nome e il suo cognome solo negli anni 90 e chissà perché comincia a utilizzare il marchio con la medusa un riferimento al mondo antico forse correndo dietro a quello che stava succedendo nella società degli anni 80 o forse no ma una cosa è certa il riferimento al nome della Nike speciale è unico Nike la vittoria secondo i greci Nike qualcosa che ha a che fare anche con lo storytelling se ci facciamo caso ogni prodotto da questo punto di vista vuole dare al consumatore una sorta di superamento dell'ostacolo io ho un desiderio col prodotto ti permette di vincere di soddisfare questo desiderio siamo all'interno di uno storytelling di una narrazione cosa dà la Nike dà la vittoria il principio che sta alla base di tutte le storie che funzionano il superamento di un ostacolo e la vittoria dove sta? innanzitutto banalmente dal punto di vista personale Phil Knight ha realizzato una sorta di ripetizione di momento greco come ci si separa dall'Oriente i greci l'hanno fatto si sono separati dalla cultura orientale attraverso qualcosa di esclusivamente greco di qualcosa di esclusivamente tra virgolette occidentale e Phil Knight prende le distanze da una casa produttrice giapponese rivendicando l'origine greca da questo punto di vista le scarpe hanno questo è la diciamo il modo in cui vengono fatti i primi logo ma il riferimento come vedete alla parola dopo un po' scompare è interessantissimo anche questo è molto greco è molto greco deve restare il gesto la scrittura non è così importante anzi la scrittura deve essere incorporata nell'anima e la scritta Nike deve sparire questa ovviamente giusta posizione la devo anche a una semiologa italiana una delle prime che si è occupata di questo fenomeno Maria Laura Agnello che ha scritto un testo molto importante su un articolo molto importante proprio su il fenomeno Nike però vedremo utilizzeremo le sue ricerche in un certo modo proprio per capire l'importanza culturale della scarpa Nike del marchio Nike quello della Nike è definito tra le altre cose un cultural brand cioè un brand culturale non un semplice brand una riconoscibilità semplice funzionale di un oggetto ma qualcosa che richiama un'intera cultura addirittura come vi dicevo dopo qualche anno uno spot della Nike dopo per molto tempo viene presentato questo slogan accanto al marchio fallo e basta fallo e basta negli anni 80 ci sono anche delle leggende sull'origine sembrano essere state le ultime parole di un condannato a morte all'epoca anche i pubblicitari cercavano di alzare il tiro tra virgolette per promuovere in modo spudorato la loro campagna eccetera ecco questa fu la spiegazione dove viene Giastudit sono le ultime parole di un condannato a morte no in realtà questa affermazione sintetizza una filosofia di vita potentissima che ha a che fare innanzitutto con una fuoriuscita dal cinismo che era la condizione che è stata possiamo dire lo è ancora la condizione di molta filosofia cinismo significa per citare una bellissimo libro di Peter Sloterdijk degli anni 80 critica della ragione cinica cinismo significa non nel senso cinico antico greco ma cinico in senso moderno significa una strategia per farsi fatti propri per essere al riparo da tutto farsi i propri calcoli anche accademici pensate a molti testi anche importanti filosofici sono stati scritti all'origine per vincere semplicemente delle cat dei concorsi eccetera persino il testo essere tempo di Heidegger ha una storia di questo tipo ecco questo cinismo che ha attraversa tutta la filosofia contemporanea da questo punto di vista viene messo molto a distanza perché una scarpa ti dice di vivere sostanzialmente di affrontare la vita non nel senso che poi si dirà contro l'ideologia tra virgolette della Nike di essere vincenti ad ogni costo assolutamente no perciò io prendo anche distanza da alcuni semiologi l'agnello già citata che vedono negli spot della Nike il mito del vincente americano tra virgolette assolutamente no anzi se c'è un valore anche etico dello slogan delle Nike è proprio questo c'è già la vittoria basta avere perché le persone non potevano mai essere Jordan non potevano mai raggiungere quei livelli certo c'era uno stadio dell'ammirazione ma proprio in quegli anni la Nike viene battuta malamente dal punto di vista economico dalla Reebok che invece comincia a produrre delle scarpe per l'aerobica femminile quindi le sneaker che vengono vendute maggiormente sono le Reebok e non le Nike nello stesso periodo in cui escono gli spot di Jordan Jordan ha una fama dal punto di vista sportivo immensa ma la Nike nel 1986 è in bancarotta addirittura Phil Knight dice bisogna rivedere alcune cose soprattutto alcuni investimenti bisogna cercare la strada della pubblicità cosa stranissima quando pensiamo alla Nike noi pensiamo alla pubblicità le campagne anti Nike dicono spesso la Nike è solo pubblicità il resto del lavoro lo fanno i bambini piccoli in Indonesia eccetera in parte è vero per carità e magari su questo possiamo aprire anche un dibattito perché capite che è un tema abbastanza divisivo però la cosa interessante è questa l'inizio Phil Knight non crede assolutamente nella pubblicità è testardo sostiene che lui ha creato delle scarpe per degli sportivi non vuole assolutamente che le sue scarpe vengano diffuse come scarpe per tutti i giorni quando lui vede gli spot i video degli hip hop degli artisti cantanti hip hop dei rapper con le Adidas soprattutto o con altre scarpe slacciate utilizzate come moda semplice moda lui non ridisce noi non stiamo creando dice Phil Knight un capo di moda queste sono scarpe per chi corre soprattutto all'inizio la Nike copre quel settore atletico ma noi facciamo delle scarpe che hanno innanzitutto un valore tecnologico devono servire a che significa che tu che sei anche sovrappeso ti metti le scarpe slacciate e molleggi e canti che cos'è ecco in realtà Phil Knight non si accorge di quello che poi le stesse Nike diventeranno al di là del suo stesso ideatore e fondatore e la cosa interessante lo ammetterà anche e Phil Knight lui ha sbagliato a non comprendere ad esempio il potere della pubblicità qui vedete un andamento dello swoosh molto interessante se uno lo osserva noterà anche un principio di schematizzazione di una storia efficace nelle storie si cade poi ci si rialza i semiologi stanno riprendendo questa analisi per dire vedete alla fine Nike ti vende la vittoria perfetto un prodotto eccezionale bene ma i stessi semiologi dimenticano di pensare la Nike indossata la scarpa quando la indossate in quale direzione mi porta è davvero la questione di rimente se io indosso un paio di scarpe Nike la vittoria mi porta indietro è stranissimo se questo appunto diventa una chiave per la storia a un certo punto dovrebbe spingerci in avanti e non all'indietro come invece accade indossando le scarpe della Nike perché perché la forza della Nike come abbiamo visto non è verso il futuro ma verso il passato oggi chi indossa delle scarpe Nike lo fa per anche una nostalgia Simone ha le Jordan io le Air Max ma ci richiamiamo a un tempo che è ormai passato ora questo appropriarsi del passato è davvero una rivoluzione che la moda sta intercettando perché perché viviamo in un'epoca particolare dove addettare la linea della novità è la tecnologia non più la moda ricordate all'inizio della mia conferenza ho sottolineato che anche Kant ha individuato nella moda la regina delle novità e questo ruolo della moda ormai è caduto non c'è più già dagli anni 80 e proprio grazie alle sneakers la moda ha inseguito sempre di più la tecnologia oggi nel campo della moda si parla di fast fashion di una iperproduzione che non ha più niente a che fare con la moda come ce la ricordiamo negli anni 60 agli anni 70 una moda che dettava e scandiva anche i tempi le stagioni un fenomeno produttivo che aveva anche delle caratteristiche naturali quella di regolare per esempio la ciclicità gli stili di vita tutto questo la moda non può farlo più perché ci sono i media digitali le nuove tecnologie che producono novità con un ritmo sicuramente maggiore che cosa succede negli anni 80 che queste scarpe le sneakers cominciano a essere tecnologiche come la tecnologia cominciano a rincorrere la tecnologia sono l'unico capo di moda tecnologico all'inizio tecnologico all'inizio questa rincorsa è di tipo servile queste scarpe seguono queste tecnologie tuttavia tuttavia col tempo oggi grazie alla moda e grazie soprattutto alle sneakers abbiamo una possibilità che le tecnologie non sono più capaci di coprire quello di quella di farci riappropriare del passato certo qualcuno dice vabbè ma noi con le nuove tecnologie possiamo anzi recuperare molti momenti del passato ma non è più passato se ci fate caso sono tanti momenti che noi abbiamo fotografato sono tanti istanti che difficilmente noi andiamo a rivedere addirittura sono i social network a ricordarcelo si festeggia questa ricorrenza l'anno scorso hai fatto questo perché noi non abbiamo nemmeno più il tempo orientati dai nuovi media nella rincorsa sempre dell'ultima novità a mettere un po' la testa sul nostro passato cosa ci permette invece di operare in questa direzione è proprio la moda oggi la moda può giocare una partita della sostenibilità a 360 gradi non solo nel senso ecologico ma anche in un senso storico e anche esistenziale i media tra loro si sfidano sono in competizione questo che significa significa che a un certo punto questi stessi media devono farsi la guerra devono sfidarsi e oggi la moda come può vincere può vincere proprio attraverso scarpe come quelle delle Nike che permettono di riprendersi il passato anche con effetti nostalgici ma sicuramente con una coscienza superiore rispetto alla direzione dei nuovi media adesso e sto per chiudere vi faccio vedere in realtà quello che ha determinato la vera svolta delle Nike non è stato Michael Jordan è stata una pubblicità una pubblicità che probabilmente abbiamo dimenticato ma adesso ve la farò vedere è una pubblicità che compare nel 1987 quindi dopo il crack della Nike dell'86 quindi con Jordan le Nike guadagnano tantissimi punti a livello di immaginario ma pochissimi in termini di successo economico nell'87 Phil Knight cede alla pubblicità e c'è un'agenzia pubblicitaria innovativa che utilizza per la prima volta una canzone dei Beatles per un prodotto commerciale una cosa che non doveva assolutamente essere fatta anche questo le Nike hanno avuto un potere dissacrante utilissimo ha separato una scarpa dalla sfera del sacro qualcosa che era stato confinato nella sfera del sacro i Beatles ma come la band più commerciale della terra John Lennon aveva definito i Beatles un gruppo commerciale ma alla morte di John Lennon i Beatles vengono incellofanati resi sacri e assolutamente non si può utilizzare un brano per un prodotto commerciale è stata Yoko Ono la vedova di John Lennon da artista a permettere una cosa del genere ma gli altri Beatles hanno fatto causa la Nike la Nike la Nike vince perché ha l'autorizzazione di Yoko Ono poi c'è tutta una battaglia legale interessantissima ma che vi fa capire anche la direzione che ha preso questo marchio quello di diventare un marchio per tutti quindi non più per gli sportivi non più per persone alla Michael Jordan non più per semplici divinità tra virgolette ma per tutti e non c'è nessuna competizione da vincere olimpionica semplicemente bisogna vivere e basta farlo e basta come in questo spot che ha cambiato totalmente il piano economico della Nike All right All right All right Ecco questo è il celebre spot che ha reso possibile un'impennata nelle vendite della Nike e una sfida culturale vinta il brano Revolution è un brano che criticava un atteggiamento nel 1968 quando viene composto da John Lennon un atteggiamento rivoluzionario e violento John Lennon inonizza nella canzone contro il rivoluzionario nelle strofe leggiamo se vuoi portare le immagini di Mao non contare su di me se vuoi utilizzare la rivoluzione per messaggi di odio dovrai aspettare se vuoi fare la rivoluzione ma chi non vuole la rivoluzione un brano musicale che fu molto criticato tra l'altro dagli estremisti nel 1968 e che viene poi reso mostro sacro negli anni a venire soprattutto dopo la morte di John Lennon Nike è il primo prodotto commerciale a autorizzare una canzone dei Beatles che dice sostanzialmente questo la rivoluzione va terminata la rivoluzione non è la strada da percorrere la strada da percorrere è una strada molto più morbida strategica che ha a che fare col principio di design più modesta però nello stesso tempo più efficace quello che ci permette di essere cool di abbassare la temperatura e di provare sicuramente nuove sfide nell'immagine che vedete vedete un'altra strategia una delle più recenti della Nike tra l'altro proprio nel campo della moda vedete scomparso prematuramente Virgil Abloh un innovativo stilista che ha creato una linea di scarpe Nike di tra virgolette di alta moda le trovate ovviamente in modelli super costosissimi però è anche un modo della Nike di entrare in uno spazio dell'alta moda attraverso un'incorporazione di stilisti innovativi come Virgil Abloh di grafici designer artisti questo vi dà proprio la cifra di quello che è stata la scarpa Nike come principio di incorporazione potevamo scoprire tutte queste cose attraverso una semplice scarpa ebbene sì e questa è proprio la sfida della pop filosofia è la sfida che ho cercato di lanciare oggi con voi grazie 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 davvero grazie a Tommaso per questa bellissima conferenza ci ha aiutato a pensare con i piedi oggi che è operazione direi difficile ma fondamentale ringrazio tutti voi e tutti voi che avete ascoltato vi ricordo il prossimo appuntamento con la professoressa Francesca Romana Recchia Luciani martedì prossimo buona serata grazie